Ciao Patti. No, oggi non gracchio. Non so ieri che si è successo, guarda, mi vergogna ancora della giornata di ieri. Non so che c... Io tra l'altro, mentre ascoltavo Max parlare, sentivo un concerto di Metallica in pratica, perché non sentivo nemmeno io niente, quindi sono stato un'ora a sentirmi il gracchiare... Salonico, bello. L'ho sentivo per un'ora il gracchiare di Max e io non potevo parlare. Un disastro ieri, non so che cavolo è successo. Ciao Luca. Arriviamo a 81 e poi iniziamo. Voi mi sentite bene? Oh, ok, ok. Arabella. Grazie. Dai, ancora due e poi cominciamo. 79. Ah, meno male, dai. Oh, 82. L'ha già superato. Iniziamo? Cosa facciamo? Iniziamo, aspettiamo ancora due minuti. Maria, cosa facciamo? Iniziamo o aspettiamo? Iniziamo, iniziamo! Sì! Oh, che bello! Sono proprio contento di... Aspettiamo un minuto o iniziamo? Vabbè, intanto mi racconto poi i fatti miei. Sono proprio contento di fare queste riunioni. L'unica cosa è che, meno male che Max mi ha chiamato dieci minuti prima di iniziare, perché io mi ero dimenticato che dovevo entrare nel profilo primo corso e far partire la diretta con primo corso. Altrimenti io non so cosa stavo facendo. Proprio la mia testa era... Mi stavo preparando una grafica per quello. Ero concentrato a sistemare questa grafica che dopo vi apparirà o qua o qua, non lo so, non ho idea. Anzi, ve la faccio vedere subito con i nostri potentissimi mezzi. Abbiamo preparato una grafica che finalmente potrete vedere. Ta-ta! Per esempio ho scritto tutti i numeri al contrario sul foglio. Però almeno sapete cos'è, potete vedere cos'è la scala del risveglio oggi. Quel pigrone di Max invece li scrive dritti così voi vi vedete all'opposto. Eccola qua. Oggi parliamo della scala del risveglio. Ieri tra l'altro abbiamo fatto il primo incontro del corso istruttori. È stato molto bello. E sicuramente andrà ancora meglio le prossime volte. E volevo spendere... Grazie Keri. E volevo spendere qualche parola su quello che è successo ieri. Quello di cui abbiamo parlato ieri. E anche riferimento all'argomento di oggi. Allora dai, iniziamo. Prendiamoci qualche secondo per concentrarci. E iniziamo con il nostro paracelso. Paracelso. Mantieni la tua anima forte e pulita. E tutto andrà bene. Non credere di essere solo né debole. Perché dietro di te ci sono eserciti potenti che nemmeno ti puoi immaginare. Se elevi il tuo spirito, non c'è male che possa toccarti. L'unico nemico che devi temere è te stesso. Questo pensiero è fantastico. Le prime tre frasi ti danno proprio sollievo. Poi l'ultima dice... L'unico nemico che devi temere è te stesso. Ecco, qua sono problemi. Allora ragazzi. Oggi, visto che tante persone sono nuove... Mi spiace per i pluri ripetenti che da vent'anni frequentano il primo corso e avranno sentito queste cose tante, 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 tante volte. Però, ripetita Juvent, e poi, come abbiamo visto, c'è sempre qualcosa di nuovo ogni volta che se ne parla. Visto che tanti di voi sono nuovi, non hanno letto il libro, comunque magari hanno solo letto il libro, visto qualche conferenza, abbiamo deciso di fare questa serie di incontri con me, proprio per potervi parlare un po' degli argomenti base su cui si basa la logica spirituale. E tutto questo nostro nuovo percorso di rinnovamento dell'insegnamento è iniziato nel 2014, quando Max, durante una conferenza, ha parlato per la prima volta della scala del risveglio. Se volete sentirvi la conferenza, tra l'altro, molti stralci sono presenti nel mio video, nel mio libro. Eccolo qua. Ma se proprio volete sentirvi tutta la conferenza intera e ve lo consiglio vivamente, andate su rieccomi.net, che adesso funziona. Mi spiace, per qualche giorno non è andato, ma è stato hackerato. Non so cosa volevano. Comunque l'abbiamo risistemato abbastanza facilmente. Quindi, se volete andare, c'è riaccomi.net slash insegnamento e nella pagina di insegnamento c'è un seminario che si chiama Io sono un numero 5. Perché questo titolo? Perché Max... No, quello no. Perché questo titolo? Perché Max voleva fare questa prova, no? Per cercare di capire un po' come poteva... Verificare un po' come era cambiato il mondo dell'insegnamento, il mondo dei nati e il mondo spirituale in questi ultimi anni. Allora lui, semplicemente così, per utilizzare come un'ipotesi di lavoro, ha detto, supponiamo che io sia un numero 5, ovvero una di quelle persone che hanno già sviluppato un certo grado di consapevolezza, che è una di quelle persone che si sono risvegliati ai mondi superiori. Invece voi che state ascoltando siete dei numeri 4, cioè delle persone che devono ancora fare l'ultimo step, il secondo, questo step per poter accedere ai mondi superiori anche voi. Allora, tutta la giornata è stata basata su questo. Il seminario è molto bello, abbastanza lungo, però vi consiglio di vederlo, di ascoltarlo, perché ci sono, oltre ad esserci tanta teoria, ci sono anche due o tre momenti molto toccanti che vi invito a ascoltare, veramente ascoltare con gioia. Tra l'altro uno di questi momenti qua era, proprio si basava sul mio argomento preferito, che è il terminile, e mi ricordo che Max invitava una ragazza che aveva, che si era espressa con tutta la sua timidezza, con tutta la sua paura di estrimersi, con tutto il suo timore, invitava questa ragazza a vedere la sua propria bellezza e di vedere come questa sua timidezza non fosse qualcosa di negativo, non fosse timore rieverenziale, che è una cosa meravigliosa. Il timore rieverenziale è proprio, se lo si sa percepire, chiaramente da noi il timore rieverenziale è un'arma a doppio taglio, però se lo si sa ricepire è una cosa fantastica. Allora, vi stavo dicendo, per tutti i nuovi è molto importante che voi iniziate a masticare questo tipo di linguaggio, anche perché come diversi mi hanno scritto che senza aver letto il libro, ogni tanto Max parla di numeri 4, di numeri 5, ma non ha mai approfondito l'argomento finora. Quindi adesso me ne occuperò io. Tra l'altro, visto che ieri vi ho fatto questa riunione per gli insegnanti, non so, mi pare che qualcuno ci sia, questo è l'argomento principale, il primo argomento da dover sviscerare. È un'intuizione, diciamo, perché questa nuova strutturazione dell'insegnamento è un'intuizione, però è qualcosa di facilmente comprensibile per le persone e anche facilmente spiegabile anche senza essere un numero 5. Insomma, è qualcosa che arriva alle persone perché da proprio dei punti di riferimento abbastanza concreti che ognuno può utilizzare nella propria vita di tutti i giorni, nel proprio studio. Visto che, come sappiamo, siamo nel momento di, anche prima, di questa situazione corrente, la confusione in ambito spirituale era molto grande e io stesso, spesso e volentieri, mi perdevo. Grazie a questa scala, soprattutto grazie all'incontro con Max e al lavoro con lui, ma grazie a questa scala perlomeno ho potuto iniziare a rendermi conto un po' dove stavo esattamente. Molti di noi in alcuni momenti ci sopravvalutiamo, tutti quanti in altri momenti invece ci sottovalutiamo. invece in altri aspetti che sono aspetti molto importanti come quello che ho denominato prima, il femminile, noi lo consideriamo quasi minimamente nel lavoro su di sé, non riusciamo a incastrarlo, non riusciamo a capire quanto sia importante, quanto sia questo qualcosa di veramente utile per crescere di consapevolezza, non lo sappiamo incastrare, non sappiamo neanche come rapportarci molto spesso perché io stesso all'inizio del mio percorso vedevo che la maggior parte dei conferenzieri, queste persone che si ponevano come guide non erano un granché capaci di farmi percepire le emozioni superiori, l'importanza delle emozioni superiori. Mi ricordo che una volta c'era stata una conferenza, c'erano diversi relatori e poi mi ero andato a rompere le palle, diciamo la verità, a uno di questi che era lì vicino al buffet, stava mangiando, sono andato a rompergli le scatole e io gli ho detto così, gli ho domandato, ho detto guarda, secondo me, ho sbagliato il modo di approcciarmi con molta presunzione, secondo me dovresti parlarci di più di cosa riguarda il cuore aperto perché io non penso che di avere bisogno di sentirlo più, di sentirlo più mio, di capire un po' più quello che riguarda, cosa sia esattamente questo cuore aperto perché io mi ero fatto delle idee che non stavano né in cielo né in terra e queste idee arrivavano da questi conferenzieri poi magari probabilmente responsabilità mia che non avevo approfondito bene che era all'inizio e non assolutamente magari loro adesso non mi ricordo con precisione avevo fatto un buon lavoro per far cercare di farmi farci capire a chi li ascolta ascoltava queste cose mi sono avvicinato gli ho detto questa parola lui mi ha risposto ma io ne parlo molto di cuore aperto e ho detto ok va bene lui se n'è andato anzi si è smaterializzato dalla mia vista vediamola così io sono rimasto lì come un sacco di patate e quindi quando invece questa cosa del cuore aperto dovrebbe essere dato che noi siamo delle persone che tendiamo noi occidentali che tendiamo a capire tutto tutti quanti qua noi abbiamo questa tendenza di sicuro cercare di capire cercare di comprendere fare le nostre elucubrazioni mentali cercare di afferrare le cose a livello mentale riuscire a capire attraverso la parte mentale il mondo dell'emotivo soprattutto l'emotivo superiore non è possibile sono due mondi completamente diversi che non c'entrano niente uno con l'altro però però si può fare un escamotage visto che noi siamo persone mentali abbiamo la possibilità di poter vedere qualcosa del piano emozionale cercare un attimo magari non di capirlo ma iniziare a educarci per esempio a come lasciare entrare questo mondo come utilizzarlo come gradualmente lasciarlo entrare perché non è che si può non è una porta che si spalanca così è un qualcosa perlomeno nel mio caso è un qualcosa che è stato un'apertura graduale magari con degli scossoni si apriva un po' di più poi si richiudeva poi si ripriva ancora però in questa maniera e su questo e di questo ve ne parlerò a lungo oggi in questa maniera ho potuto iniziare a aprire in maniera più consapevole al piano emozionale superiore che come abbiamo visto sia nella lezione passata con me ma anche mi sembra la settimana scorsa Max abbia parlato del mentale superiore e quindi anche dell'emotivo superiore è qualcosa che ha la nostra portata è la nostra via di salvezza di questo periodo quindi allora perché è così importante questa scala perché ci può dare questi punti di riferimento allora la scala questa per chi non si era ancora connesso molto orgogliosamente vi faccio vedere questo schemino allora questa è la scala del risveglio vera e propria quella che aveva fatto Gurgieff un centinaio di anni fa come potete immaginarvi cento anni fa la situazione era un po' diversa rispetto rispetto a quella di adesso la società era strutturata in maniera completamente diversa però Gurgieff con questa scala era ovviamente un intuitivo e avanti di cent'anni aveva già capito che per l'uomo occidentale per l'uomo occidentale che si stava fermando nella società in quel momento metto giù per adesso si stava fermando in quel momento il modo vecchio di approcciare all'insegnamento non andava più bene quindi serviva qualcosa di nuovo immaginatevi questa cosa fine 1800 lui viveva in Russia quel periodo poi era andato in Francia mi ricordo una persona immaginate la Russia di fine 1800 inizio 1900 ok terra sterminata tantissime campagne ovviamente c'erano delle realtà metropolitane però lui aveva già capito che la società si sarebbe sviluppata secondo un certo modo quindi questo è già qualcosa di intuitivo e che serviva che serviva a dare la possibilità a tutte le persone che gradualmente si sarebbero aperte ai mondi spirituali quindi aveva capito anche questo cioè ci sarebbe stata un'apertura sempre maggiore verso i mondi spirituali verso il lavoro su di sé la ricerca interiore di dare la possibilità anche per l'uomo metropolitano di potersi approcciare approcciare all'insegnamento già solo questo se ci riflettete un attimo qualche giorno fa ho sentito una conferenza di Max sull'importanza della parola già solo una persona a scrivere queste cose cent'anni fa cento e trent'anni fa cioè e grazie a loro grazie anche ai loro sforzi che noi adesso siamo davanti al telefono e siete in 93 che ascoltate me quindi già immaginatevi tutta sviluppare questo senso di riconoscenza verso ciò che è stato precedentemente perché perché si è svolto precedentemente vabbè ci siamo capiti allora cosa aveva fatto lui tanto per andare velocemente perché comunque immagino che un po' sappiate bene di cosa sto parlando aveva diviso gli esseri umani in sette categorie gli 1, 2, 3 i dormienti e su questo vi devo spiegare qualcosa dormienti e va bene che siano nella loro situazione i dormienti di adesso li vediamo che disastro che li stanno combinando però ci sono e va bene così per Google poi c'erano i numeri 4 che erano persone che avevano già fatto un lavoro su di sé molto molto avanzato i numeri 5 erano coloro che erano entrati nei piani superiori dell'esistenza e ormai avevano un centro di gravità permanente ben preciso e poi c'erano i 6 e i 7 che sono i maestri e i diciamo i maestri i maestri più elevati allora cosa ha fatto Max lui nel quando aveva iniziato a fare mi ha raccontato che aveva iniziato a fare questo lavoro negli anni 90 io non c'ero ancora quindi riporto quello che mi è stato detto lui mi aveva raccontato che le emozioni superiori non esistevano come esistevano adesso esisteva l'amore era tutto in un calderone tutto insieme quindi nello stesso calderone c'era l'affetto la tenerezza ma c'era anche la gelosia c'era il possesso c'erano sia le emozioni superiori che quelle inferiori non c'era alcuna differenza di ottava e non c'era alcuna differenza tra una e l'altra cioè il rapporto col finanzato nel rapporto col finanzato c'era sì l'amore sì la tenerezza ma allo stesso allo stesso livello c'era la la gelosia il possesso a oggi se ci pensiamo ci sembra stranissimo c'è sicuramente qualcuno collegato che lei ha sentito queste lezioni in diretta ai tempi però se ci pensate un attimo è stranissimo questa cosa e io per anni ho lasciato un po' mi è rimasto un po' un punto di domanda non è che non mi fidavo però non avevo avuto non avevo ancora toccato questa cosa nella mia vita personale e qualche settimana fa mi è capitata una cosa curiosa io ho una fidanzata tailandese e quando stavamo a Phuket lei ha la passione di andare a giocare a pallavolo allora cosa è successo un giorno è andata a giocare a pallavolo sulla spiaggia dove giocava a pallavolo già i pallavolisti sono tutti fisicati tutti maschi stranieri tutti belli fisicati in più accanto ai campi di pallavolo c'è una palestra a cielo aperto dove ci sono tutti questi energumeni tutti con gli addominali segnati le spalle grosse le braccia grosse così che si allenano quasi tutto il giorno allora noi avevamo un impegno alle alle sette e mezza di sera e non arrivava non arrivava non arrivava sono stato preso da una crisi di gelosia tremenda ho preso il motorino e con la scusa di dire oh è tardi dobbiamo andare a cena dobbiamo andare a cena e per colpa tua siamo in ritardo allora mi sono fiondato là mentre lei stava vedendo via e allora io cosa ho fatto non potevo dirle guarda sono venuto qua perché ero geloso di quelli che sono lì a fare gli addominali sono venuto qua perché eravamo in ritardo ho fatto anche sentire in colpa allora qualche ed è andata così qualche settimana dopo le ho raccontato con sincerità quello che era successo le ho detto guarda quella volta lì non sono venuto da te perché eravamo in ritardo sì anche per quello ma ero ero geloso cioè non ce la facevo più a immaginare che tu eri già in ritardo di un'ora e con tutti quelli che ti possono ronzare intorno e lì è caccia caccia aperta poi con tutti quelli che ti possono ronzare intorno ero ho avuto una crisi di gelosia lei mi ha guardato non era tanto che stavamo insieme tipo tre mesi quattro mesi ma guardate e gli sono sbarati gli occhi e mi ha detto ma allora mi ami veramente non l'avevo ancora capito vedete come a un certo a un certo livello di coscienza per loro è un po' diversa la cosa però la gelosia può essere una sfaccettatura dell'amore quindi è incredibile come anni fa tutte queste cose qua si mettevano sullo stesso sullo stesso livello non c'era la tenerezza a questo livello il possesso a questo cioè il nostro il nostro centro di avvicinarsi sempre di più verso la tenerezza verso la comprensione verso la il non possesso e allontanarsi sempre di più le emozioni quelle più inferiori come il possesso o la gelosia quindi è stata molto divertente questa e io dicevo porca miseria allora vedi che per qualcuno la gelosia è qualcosa di positivo quindi cosa è stato fatto è stato fatto da Max questo lavoro di frammentazione dell'insegnamento allora ho preso l'amore ho iniziato a spiegare guardate che ci sono due tipi di amori c'è l'amore in un'ottava alta l'amore in un'ottava bassa poi ci sono delle emozioni che ti portano verso i mondi superiori le emozioni che ti fanno invece ti portano verso ti ancorano per terra e ti fanno come si può dire ti fanno innescare una spirale discendente che ti porterà le emozioni negative eccetera eccetera ok allora Max ha frammentato l'insegnamento in questo caso in quel caso per le emozioni superiori poi l'ha fatto anche invece per quanto riguarda la scala del risveglio di Gorgier quindi cosa ha fatto ha preso questo livello qua il numero 4 che avrete sentito nominare un milione di volte ormai ha preso il livello numero 4 e l'ha suddiviso in 7 parti perché in pratica prima i numeri 4 come vi ho detto erano quelli che avevano già fatto un certo tipo di lavoro e il numero 4 di prima corrisponde più o meno al numero 4.7 di adesso invece ora c'è tutto a questa varietà di scalini cioè ci sono diverse diverse possibilità di diversi gradi di risveglio diversi gradi di avvicinamento al numero 5 che vanno fatti più o meno uno alla volta allora cosa succede iniziamo dal principio abbiamo detto siamo prima anche noi tutti 95 96 io eravamo a questo livello qua 1 2 3 addormentamento totale quindi qui si va si vive nell'addormentamento l'unica cosa che ci interessano sono quelle comuni tutto quello che matrix ci propina noi lo prendiamo supinamente vuoi 12 spalle ti do me le faccio mettere vuoi farvi 20 punturine niente va bene così si va così un po' per anche c'è chi non è proprio adesso l'ho fatto l'ho tirato un po' l'ho tirato un po' all'estremo però le possibilità di riflessione su su quello che gli accade intorno sono molto limitate allora cosa succede a un certo punto dentro di noi capita qualcosa non è che è un interruttore che si accende e si spegne a un certo punto vediamo che la nostra attenzione inizia a dedicarsi sempre di più verso temi più delicati temi più leggeri per esempio nel mio caso io a un certo punto da essere un casinista totale continuato a essere casinista però il casino lo facevo riguardo per esempio la raccolta differenziata lo facevo riguardo il rispetto degli animali per esempio cioè a un certo punto dentro di noi accade qualcosa in pratica nasciamo al mondo spirituale dall'addormentamento completo c'è un primo impulso dell'anima che salta fuori proprio come un bambino che nasce salta fuori e ci proietta in un altro mondo in modo di nati a livello spirituale come vi ho detto non è un interruttore però ognuno di noi può avere dei momenti un po' più come si può dire marcati dove si vede di questa cosa come vi ho detto io avevo iniziato a per me la raccolta differenziata era diventata una fissa però ciò che realmente ha iniziato a farmi spostare la mia attenzione su questi nuovi mondi su questa nuova cosa che non sapevo neanche come definire non mi rendevo neanche conto che era qualcosa di diverso il passaggio era stato sfumato e quindi a un certo punto cosa è successo il padre della mia ex finanzata si è si è ammalato cancro in pochi mesi è stato portato via e lì a me è scattato qualcosa ho detto qua non mi sta più bene cioè la vita di prima non è che non è che ci ho pensato però era come se la vita di prima non aveva più la stessa importanza le cose della vita di prima non avevano più la stessa importanza allora tutto quel dolore tutta quella sofferenza che avevo visto in lui nelle figlie soprattutto la mia finanzata l'avevo rigettata nel scoprire cosa era successo allora per me il mio primo passo era stato quello di curare la mia alimentazione per esempio iniziare a occuparmi di complottismo ecco quello è il primo scatto